Ciao a tutti! Oggi preparo i pancake, i pancake a forma di cagnolino. Prima ci si mette la farina, dopo di che ci si aggiunge un uovo. Dopo ci si aggiunge un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di sale e un cucchiaio di lievito. Dopo ci si mette un pochino di latte. E poi si va a mescolare. Si mescola bene per lo stesso verso. Poi, quando è bello liscio, si mette sulla fiastra. E ora si mette sulla fiastra. Si cuoce, poi si cuoce, poi si cuoce. Ora si decora. Si mette due biscotti come orecchie. Poi si mette la lingua, una fragola. Poi si mette due pezzi di banana come occhi. E in musetto una mela. Poi con la cioccolata facciamo gli occhini e il nasetto. Ecco la mia opera d'arte finita. Ecco la mia opera d'arte finita.